Quattro giorni in pronto soccorso prima di ottenere un postoletto, ore di attesa per essere curati nell'unità d'emergenza, sempre più a corto di medici, 4 su 10 necessari. Continui trasferimenti a Campobasso che prevedono costi ingenti, anche due in altre tante giornate per lo stesso paziente che necessita, ad esempio, di una visita urologica e neurologica. Psichiatria chiusa e ricoveri, emodinamica che non funzionerà più, H24. Questo oggi è il Veneziale di Sernia, ospedale che un tempo invece contava su tutti i reparti, che ora non ha più specialità. L'Otorino Laringoiatria, ad esempio, oltre a non prevedere da anni i ricoveri, funziona fino al sabato alle ore 14. Da quel momento fino a lunedì, anche per queste consulenze, il riferimento è il Cardarelli, con tutte le conseguenze del caso per l'ospedale del capoluogo, sempre più carico di utenza. Non è finita qui perché l'accordo, recentemente siglato dalla regione con l'Unimol, decreterà altre novità, come il probabile affidamento dell'incarico di primario facente funzione del reparto di medicina a un docente universitario. Sarà ordinario, spiegano dall'ASREM, sottolineando che ci sono già nell'azienda strutture a direzione universitaria, come il laboratorio analisi. Il sindaco, Piero Castrataro, sta organizzando una grande mobilitazione, vuole coinvolgere i colleghi degli altri comuni, considerando che il veneziale è riferimento della provincia di Sernia e anche dei territori extra-regionali limitrofi. Lunedì riunirà la maggioranza per stabilire quale iniziativa intraprendere, intanto fa appello ai cittadini perché lottino per la sanità. Il paradosso è che queste decisioni non hanno nessuna fondatezza a livello economico manageriale, sembrano più dettate dalla volontà di svuotare, il veneziale e svuotare la città di Sernia e la provincia di un ospedale con riferimento anche per alcune zone oltre i confini regionali. A questo punto dobbiamo pensare a delle azioni eclatanti, in queste ore le decideremo e nelle prossime settimane le metteremo in atto. Sindaco, praticamente non è cambiato nulla da anni fa quando si scendeva in piazza per la sanità, periodicamente si deve tornare a rivendicare il diritto alla salute in Molise? La verità è che le cose sono peggiorate, non si vede una fine a questo peggio, anche se ora aumenteranno i soldi a disposizione della sanità, non c'è stato nessun atto gestionale che abbia potuto far pensare a una rinascita o comunque a far sopravvire l'ospedale che ormai sta morendo. Noi siamo pronti a fare di tutto, non solo dal punto di vista legale ma anche dal punto di vista della mobilitazione dei sindaci e delle comunità per poter portare le nostre istanze, a questo punto vanno portate anche a Roma perché non c'è altro che protestare su livelli più alti per difendere il diritto alla salute dei cittadini. Grazie Grazie Grazie